L'attimo fuggente, la voce di Luca Telese che arriva alle vostre orecchie in questa radio libera di informare, connessa con il nostro ponte che ci collega a Mark Bernardini a Mosca. Ciao Mark! Ciao Luca! Allora, dacci... Un ponte nel tempo di guerra è sempre un simbolo di pace. Dacci l'aggiornamento quotidiano, cosa sta accadendo, hai visto che ho letto anche oggi un altro pezzo sul fatto in cui un esperto generale pone tre ipotesi che ti giro, o inganno, o promessa di pace, oppure terza ipotesi potrebbe essere un errore. Quindi, a te l'ha da scelta? No, appunto, io non scelgo, nel senso che potrebbe essere qualunque delle cose. Io ho sentito quella intervista che hai letto, la trovo abbastanza condivisibile. C'è un unico punto sul quale non sono molto concorde, ma che è la stessa cosa che ti avevo detto ieri, e cioè che per quanto mi riguarda questa è una scelta militare e non politica. Devo dire, novità poche, nel senso che si continua a discutere ovviamente qui in Russia di questa scelta, ci sono diverse opinioni, diverse posizioni, ma insomma fondamentalmente rispetto a quello che ci siamo detti ieri non ci sono grandi novità. Io ti volevo fare un rapidissimo escurso storico, se torni con la memoria a quando andavi a scuola. Ti ricordi tale Suvorov? No, mi pare di capire. Suvorov era un generale dell'impero zarista, stiamo parlando di XVIII secolo, ma per intenderci è uno che in realtà a suo tempo in Italia era famoso eccome, perché fu quello che a fine XVIII secolo liberò dai francesi città come Verona, Brescia, Milano, Mantua, Alessandria. Ecco, insomma era un personaggio ed era ovviamente un militare veramente geniale in questo senso. Beh, io ho trovato una sua frase che secondo me è di un'attualità sconcertante, dove a un certo punto lui dice «Nessuna postazione deve essere considerata una fortezza. Non c'è vergogna nel cedere una postazione a un nemico superiore in numero. Al contrario, questa è l'arte della guerra per ritirarsi in tempo senza perdite. Una postazione ceduta può essere presa di nuovo, mentre la perdita di persone è irreparabile. Spesso ha più valore una persona della postazione stessa». Beh, sembra scritto oggi praticamente, no? Beh, certo perché l'arte della guerra non ha età, come ci dimostrano spesso anche gli stratagemmi di Giuliano Vidabardi. E ti dicevi? Te ne dico invece un'altra che è molto più recente, cioè si fa per dire ovviamente, nel 1941, e ci fu questo episodio quando il comandante Zhukov, altro cognome abbastanza molto, Eh, in generale Zhukov, l'eroe della guerra patriottica. E pensa che nel 1941 lui suggerì a Stalin di lasciare Kiev per evitare pesanti perdite, ma suscitò la rabbia di Stalin che quindi di fatto lo ha esautorato dalla carica di capo di Stato Maggiore Generale e ha implementato la sua strategia anziché quella di Zhukov. E il risultato sono state perdite enormi. L'accerchiamento e la perdita di mezzo milione di soldati e ufficiali. Kiev fu conquistata dai tedeschi lo stesso e fu liberata solamente nel 1943. Eh, direi che anche questo è un episodio abbastanza emblematico. Certo. Senti che bello il messaggio che ci manda Eva, la cultura, lo spessore dei nostri ascoltatori. Su chi vuole mettere la censura, a Boris Godunov o Godunov? Ecco, senti, questo è un po' come Gorbaciov, Gorbaciov. Si chiama Godunov. Godunov. Alla scala, io dico, ma che vogliono fare? Un'altra Babbel Platz? Bruciamo i libri che qualcuno decide che non devono essere letti? Bruciamo le pellicole? Distruggiamo gli spartiti? Eliminiamo Sallustio? Senti, perché andava giù pesante con la dinastia Giulio-Claudia e quindi non è una buona propaganda per la stirpe italica? Rivendico il mio diritto a leggere Majakowski, ma anche Selin, anche Edra Pound il diritto a guardare i film e le opere che voglio quando voglio. Ciao Eva! Tu sei libera di informare oggi. Certo. Bello, eh? Luca. Sì, è molto bello. Lo condivido. Così come condivido quello che tu hai detto all'inizio di questa trasmissione e lo hai detto in maniera molto efficace per cui non ho molto da aggiungere. L'unica cosa che posso aggiungere è un episodio che tu hai menzionato cioè quando tutto questo è iniziato è iniziato con il divieto di Dostoevsky di una lezione su Dostoevsky. Esatto, ma lì la cosa tremenda è stata che quella era stata un'indicazione del Ministero della Cultura quindi non un ministero qualsiasi no, proprio quello della cultura con una motivazione che veramente cascavano le braccia perché dicevano perché Dostoevsky non ha condannato l'invasione di Putin. Poi evidentemente qualcuno poi evidentemente qualcuno gli ha fatto notare che ai funzionari del Ministero della Cultura beh, come minimo devono sapere insomma, non dico l'anno preciso ma insomma più o meno il periodo in cui ha vissuto Dostoevsky allora trovarono un'altra motivazione che se vuoi è ancora più risibile però almeno ha più senso e cioè che prima di parlare di Dostoevsky bisogna trovare uno scrittore ucraino del medesimo calibro la par condicio, sì sì, mi pare una follia ma almeno qui c'è un significato insomma ma quello che non ha condannato l'invasione russa beh, insomma mi sembra davvero in che mani siamo sì no, ma poi vedo le opinioni più disparate su Twitter un altro ascoltatore ci dice ma non si tratta di una sospensione definitiva si tratta di una sospensione solo per il periodo di incudire all'invasione ma scusami ma è proprio questo che è inaccettabile cioè è inaccettabile qualunque sospensione definitiva che sarebbe la cancellazione del patrimonio culturale dell'umanità ma è inaccettabile anche la sospensione provvisoria mi sono piaciute molto le tue due citazioni c'è quella di Bertolt Brecht e quella di capisci una censura a Brecht e di Wagner a proposito di Togliatti ecco è fantastico mi sembra che è fantastica questa cosa senti e che cosa si scrive però oggi sui giornali russi a partire da questa enorme notizia di ieri ieri ci hai dato i commenti a caldo che non avevano interpretazione curiosamente oggi l'interpretazione qual è? guarda fondamentalmente in realtà Russia Today che dice? come ti ho detto beh te la apro subito ma insomma fondamentalmente più che altro si continua a discutere della scelta di ieri con ripeto opinioni diverse e riportando anche tutta una serie di talk show che ci sono stati ieri su questo argomento sui canali televisivi più disparati ma insomma ripeto le posizioni sono quelle cioè c'è chi è d'accordo c'è chi non è d'accordo c'è chi è contento c'è chi è preoccupato ma si continua a discutere e diciamo sul fronte la situazione rispetto a ieri non è cambiata minimamente non ci sono stati quei bombardamenti che da parte ucraina che si paventavano ieri che si paventavano attenzione in Italia perché qui nessuno francamente l'aveva preso in considerazione questo discorso l'unica cosa ecco io ho sentito in Italia si dice che i russi stanno minando Kherson che di nuovo per quanto mi riguarda non avrebbe nessun senso viceversa invece gli ucraini stanno bombardando da ieri quindi sono più di 24 ore che stanno bombardando tutti i ponti sul fiume Dnepr che sono quelli appunto che collegano dove dovrebbe avvenire il ritiro con la con la con la riva sinistra del del fiume quindi il ritiro potrebbe non avvenire il ritiro ripeto è praticamente completato per quanto ne so io almeno questo è quello non ci sono state vittime malgrado questo bombardamento dei ponti visto che avveniva attraverso quei ponti non più del solito i morti qui lo sai sono mesi che morti da entrambe le parti ci sono tutti i giorni e soprattutto tra la popolazione civile che questa è la cosa più triste insomma per dire poco ma un incremento un escalation io francamente non l'ho notata che area senti sull'ipotesi di un negoziato abbiamo letto cosa che sembra molto verosimile che la fine delle elezioni di midterm rende più possibile per l'america ma soprattutto per Biden che è implicato personalmente ed è in gioco adesso che non si vota più sarebbe più possibile fare un accordo ma quali potrebbero essere i punti su cui visto che ci sono grandi disponibilità la Zakharov ha parlato Shogh ha parlato quale potrebbe essere la piattaforma su cui puoi esserci una pace e tra la gente c'è molta preoccupazione per questa cosa cioè la preoccupazione è speriamo che non che non ci rimangiamo tutto insomma però questo è tra la popolazione tra gli organi ufficiali tra le personalità politiche eccetera che cosa si dice fondamentalmente si dice sì ma ci sono dei punti sui quali non c'è da discutere nel senso che è palese che sono posizioni assolutamente inconciliabili da entrambe le parti e attenzione che sono quelle appunto cioè la Russia non ha nessuna intenzione di restituire persone Zaporoghie e men che mai la Crimea figurati la Crimea ormai sono otto anni che sta di nuovo in Russia quindi comunque la si pensi che sia giusto o meno però in ogni caso è chiaro che queste posizioni non sono conciliabili e allora su cosa si tratta quindi sì appunto la Sakharova ha fatto delle dichiarazioni Freud ha fatto delle dichiarazioni noto che Putin non ha fatto dichiarazioni e questo cosa vuol dire? che secondo me dichiarazioni ce ne saranno da parte del Cremlino ma siamo tutti in attesa quando e se ci saranno queste dichiarazioni che ripeto finora non ci sono state e questo è abbastanza quello che sappiamo è che ha rifiutato di incontrare Biden al COP27 avrebbe potuto farlo invece non l'ha fatto non è che ha rifiutato semplicemente non ci va perché quando per mesi continuavano a dire no Putin non ci deve andare a un certo punto ha detto va bene non ci vado e invece a capo della delegazione russa ci sarà il ministro degli esseri Sergei Lavrov che ha già in programma tutta una serie di incontri ma attenzione non è Lavrov che ha detto che non vuole incontrare Biden è Biden che ha detto che non vuole incontrare Lavrov qui c'è proprio un cambio di paradigma insomma bene e dimmi invece qual è il racconto che c'è sullo stato della guerra sui giornali che cosa si dice dopo la ritirata o prima guarda io te la interpreto più che altro perché non l'ho trovato come definizione ma secondo me l'interpretazione è che insomma sempre più chiaramente per tutti questa guerra non finisce fra una settimana e non finisce neanche fra un mese è un discorso molto molto lungo ecco probabilmente se ne parla a fine inverno e l'escalation il rischio di un'escalation sì quella ovviamente c'è ma c'è da sempre soprattutto se c'è chi continua a dire ah i russi sono pronti a usare le armi nucleari i russi continuano a dire no noi non possiamo usare le armi nucleari per la semplice ragione che stanno praticamente sotto il buco del culo nostro che quindi le radiazioni arrivano anche da noi e quindi non avrebbe assolutamente nessun significato i russi però questo non l'hanno detto fonti ufficiali ma no come no 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 fonti ufficiali ma più volte appunto adesso ultimamente non lo dicono neanche più perché ma insomma non è che tutte le volte la russia deve per forza sventire cose che non stanno né in terra né in cielo insomma sai adesso senza voler fare facili paralleli però anche Goebbels diceva no che non importa che una cosa sia falsa basta ripeterla un sacco di volte perché diventi vera e tu continua a dire e i russi vogliono bombardare con le bombe nucleari e i russi vogliono bombardare con le bombe nucleari e a un certo punto diventa vero e invece senti ti è mai capitato di sentire il Boris Godunov sì certo sai che io sono appassionato di musica classica di opera è una delle opere che mi piacciono molto ovviamente io sono più un verdiano in realtà anche perché l'ho cantato però no ma appunto cioè Tchaikovsky Musorsky sono tutti compositori che io amo molto Musorsky si pronuncia? sì sì bene vedi che mi sbagliavo anche su quello allora senti ma ti ricordi ti avevo raccontato la storia di Chernobyl che in Italia quando scoppiò allora tutti dicevano Chernobyl Chernobyl poi in realtà in realtà fu proprio Gorbachev il primo ma come segno di rispetto per la popolazione locale a chiamarlo con l'accento che si usava nella popolazione locale no cioè Chernobyl mentre in russo sarebbe Chernobyl ma appunto cioè quindi o Chernobyl o Chernobyl comunque sarebbe giusto no o alla locale o alla russa sicuramente non c'è l'unica sillaba sbagliata allora no volevo farti sentire lo scontro un altro scontro fra Borgonovo e Alessandro Zanna a piazza pulita non so se l'hai visto ieri sui migranti ma che accordo non ci prendono e non si prendono nessuno i francesi hanno fatto morire le donne incinte beh sentilo sono due tranche bellissime perché abbiamo perso la Libia e il controllo di tutti i luoghi strategici in cui avremmo controllato quei flussi quindi lo Stato fa peggio dell'ONG perché almeno l'ONG fanno quello per cui sono chiamati a fare hai ragione oggi chi sta con la Francia oggi chi sta con la Francia o dice le cose come ha detto Zan per dare contro a Giorgia Meloni sta con i responsabili della cosa che dici tu perché chi ha destabilizzato la Libia sono stati prima di tutto i francesi non li siamo andati dietro dai perché lo disse Napoletano perché lo disse Napoletano perché lo disse Napoletano perché lo disse Napoletano da Zan questi qua hanno fatto morire i francesi hanno fatto morire delle donne incinte Zan adesso Zan ci riportano i migranti mi abbassate mi abbassate grazie Zan dobbiamo dire la verità come l'immigrazione è un destino non è un destino è legato perché comunque perché comunque quelle persone andrebbero via da quei luoghi perché scappano dalla guerra scappano dalla povertà scappano dai cambiamenti climatici perché vogliono venire in Europa e non vogliono neanche venire in Italia vogliono venire in altri paesi d'Europa perché l'Italia ha il numero più basso di richiedenti di asilo e perché? perché tutti vogliono andare in Francia e in Germania lo dicevano prima i dati sono paesi che accolgono molti più migranti di quanti facciamo noi allora si parla di un accordo nel giugno di quest'anno in Lussemburgo i ministri degli interni dei paesi europei hanno firmato un accordo di redistribuzione dei migranti e non ha funzionato no e il secondo pezzo i dati che citavi tu sono prima di quell'accordo non c'entrano niente ma anche questo è un accordo no no vi prego finiamo questo è un accordo di redistribuzione dove la Francia si sarebbe presa in carico 3500 di queste persone no perché? perché se aspettiamo i sovranisti guardate Orban i dati Orban non accoglie nessuno e se i sovranisti prendessero la maggioranza in Europa col cavolo che aiuterebbe l'Italia se ci fosse un sovranista l'Italia oggi è fortunata anche il governo proprio perché ci sono paesi come la Germania come la Francia che fanno una politica non è vero chiudono le frontiere da anni questa è la verità guardi adesso questa prova muscolare della Meloni non ha portato ma lei sta difendendo uno che è peggio di Salvini porterà solo dei disastri lei sta difendendo uno che nella sua ottica è peggio di Salvini ma non è vero quel signore che oggi viene a darci le tue che mette 500 persone allora è la persona che si riporta una nave in Francia con 57 bambini ma con le stagioni di disumanità questo abbiamo fatto quante navi ha preso la Francia questo abbiamo fatto beh è una discussione ipnotica avrei potuto resistere per ore però il nostro tempo sta finendo chi ha vinto secondo te fra la Meloni e Macron ieri secondo me hanno perso tutti e soprattutto hanno perso i migranti mi è piaciuta la citazione di Sallusti all'inizio che citava Paolo Conte a sua volta i francesi che si incazzano che le palle ancora li girano ma io diciamo ho un esempio qui ah te lo ricordavi certo io ascolto Paolo Conte molto spesso si è anche contiano nel senso di Paolo sì ma mi viene in mente anche il film con Totò e cosa e Fernandell ti ricordi no? proprio su confine tra Francia e Italia insomma vabbè ma questo sarebbe un discorso lungo io voglio solo ricordare che ci sono la bellezza di 3 milioni e mezzo quindi non stiamo parlando di qualche migliaio come nel caso italiano 3 milioni e mezzo di ucraini e di cittadini delle repubbliche popolari del Donbass che in questi anni sono emigrati in Russia e nessuno si è mai sognato di dire ma questi vengono a rubarci il lavoro ma questi portano delinquenza sono stati accolti con davvero con fraternità insomma bene l'attimo oggi ha volato fra cose diverse ma come vedete ancora una volta coerenti tenute insieme da un grande filo quindi chiudiamo questa puntata con il nostro Gallagher che intona le ultime note e vorrei tenere per domani quindi non vi staccate una perla perché poi sono andato a sentire quando è uscita la canzone di Sting e Tiziano Ferro è molto bella oggi vi dà conto che la faremo sentire perché merita il tempo di essere ascoltata allora ciao a Marco Bernardini noi all'attimo ci sentiamo domani ovviamente solita ora come sempre ciao grazie ciao